Ciao a tutti, qui il vostro Aion e oggi vi propongo la mia guida personale e generale su Ghost of Tsushima Legends. Ma prima di cominciare vi invito a iscrivervi nel mio canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se il video vi è stato utile non dimenticatevi di mettere un bel like. Grazie e via con l'intro! Grazie a tutti! Ghost of Tsushima Legends è stato il primo DLC del gioco ed è gratuito per chi ha il gioco Ghost of Tsushima oppure acquistabile su PlayStation Store a 15€. Legends è la versione multiplayer del gioco originale. Iniziando il gioco si avrà la possibilità di provare tutti e quattro le classi disponibili. Il Samurai, la Cacciatrice, il Ronin e infine l'Assassino. Ognuno di essi avrà abilità uniche che li distinguono l'uno dall'altro. Il Samurai sicuramente è quello più bilanciato. Ha un buon danno e ha l'abilità che gli permettono di rigenerare vita facilitando i combattimenti in mischia. La Cacciatrice, invece, è l'esperta in combattimenti a distanza. Con l'arco ha l'opportunità di stordire o ustionare. L'Assassino è l'esperto in uccisioni furtive. Con le sue abilità è in grado di svanire sotto gli occhi dei nemici, per poi ucciderli senza che loro se ne accorgano. Il Ronin, invece, è il personaggio supporto del gioco. Ha cure ad area e il suo ultimate è in grado di risuscitare tutti i propri compagni caduti contemporaneamente. Sicuramente è la classe più indispensabile nei livelli avanzati del gioco. Ecco perché è anche il mio main. Dopo il tutorial sarete costritte a scegliere una di queste classi. Ma non vi preoccupate che avanzando con il grado del vostro personaggio avrete la possibilità di sbloccare un'altra classe. Quindi prima o poi li avrete tutti. Parlando del gameplay di Ghost of Tsushima Legends, questo si divide in tre modalità. Storia, sopravvivenza ed infine incursioni. La modalità storia è suddivisa in nove capitoli. Ognuno giocabile solamente con due giocatori e parlerà delle leggende dell'isola di Tsushima, narrate da Gyozen. La modalità sopravvivenza, invece, è per una squadra composta da quattro giocatori. E il vostro compito sarà di difendere tre accampamenti dalle invasioni nemiche. La modalità incursione, invece, è ancora un mistero e verrà svelato con la sua uscita a fine mese. Ma è certo che sarà suddiviso in tre capitoli e richiederà quattro giocatori con un livello alto per essere superata. Altro appunto, al contrario delle modalità precedentemente elencati, nell'incursione non è disponibile il matchmaking, quindi sarà compito dei giocatori cercare il proprio team. Le modalità di difficoltà sono suddivisi in bronzo, argento, oro e infine incubo e richiederanno per ogni avanzamento di difficoltà un minimo livello di equipaggiamento, sottonominato con il valore Chi. Ad ogni missione completata riceverete esperienza per aumentare il grado del vostro personaggio, che così facendo potrà sbloccare nuove abilità, attive o passive, rendendolo ancora più forte. Ogni classe avrà un proprio albero delle abilità e richiederanno ognuno il raggiungimento del grado 18 per poter sbloccare tutte le abilità della classe. Oltre all'esperienza, al completamento delle missioni, riceverete anche nuovi equipaggiamenti e risorse. Gli equipaggiamenti sono di cinque categorie, katana, armi a distanza, amuleto, armi spettrale primario e armi spettrale secondario. Gli equipaggiamenti possono essere di diverse rarità, comuni di colore grigio, non comuni di colore verde, blu per gli equipaggiamenti rari, viola per epico e arancione per i leggendari. Le risorse ottenute, invece, servono per riforgiare gli equipaggiamenti, ma su questo discorso e sugli equipaggiamenti ne parleremo in un altro video in modo più approfondito. Completando alcune sfide del gioco, avrete la possibilità di sbloccare equipaggiamenti aspetto per personalizzare il vostro personaggio, cambiando maschera, elmo, armature e aspetto della vostra katana. In più ci sono anche emot ed effetti spada che renderanno sicuramente unico il vostro personaggio. E qui finisce la mia guida generale del gioco. Per chi ha iniziato da poco, oppure ha intenzionato ad iniziarlo, questi sono i miei consigli per iniziare al meglio il gioco. Consiglio 1 Scegliete bene il vostro primo personaggio con cui iniziare. Perché se avete intenzioni di cambiare, avrete bisogno di perdere tempo per portare il grado della nuova classe al livello massimo, per poterlo utilizzare al meglio. Consiglio 2 Per aumentare velocemente il vostro equipaggiamento e il grado del vostro personaggio, vi consiglio di fare missione storia, invece delle sopravvivenze. Perché essi vi daranno le stesse quantità di ricompense oggetti, ma riceverete più esperienza e richiederanno sicuramente anche meno tempo per essere completate. Consiglio numero 3 All'inizio non badate tanto alla rarità dei vostri equipaggiamenti. Perché la cosa più importante è il valore key che riuscite a raggiungere, per poter passare al prossimo livello di difficoltà. Più è alto la difficoltà, più le ricompense saranno migliori. Quindi non importa se userete oggetti meno rari, l'importante è aumentare il vostro valore key. Una volta raggiunti gli oggetti epici sarà lì consigliato equipaggiarli, perché sicuramente avranno proprietà che aumenteranno sicuramente le statistiche del vostro personaggio. Consiglio numero 4 Non vi preoccupate di studiare i build, perché quelli richiederanno oggetti avanzati e soprattutto di rarità epico oppure leggendario. Meglio imparare le meccaniche di gioco e soprattutto i moveset dei nemici, per essere preparati ad ogni evenienza. Spero che questa guida vi sia stato utile. Non dimenticatevi di lasciare un bel like e scrivetevi nel mio canale se non l'avete ancora fatto. Grazie della visione e alla prossima dal vostro Ion. Grazie per la visione e alla prossima dal vostro Ion.